Capricorno che vivrà invece una giornata molto bella, positiva, finalmente una ripresa per voi amici del Capricorno riuscite ad organizzare al meglio questa vostra giornata con questo Mercurio nel segno dell'acquario c'è sempre la possibilità non solo di fare degli investimenti azzeccati quindi degli acquisti anche azzeccati, non so, ci sono un sacco di siti che vi permettono di andare a ricercare quell'oggetto che vi serve in questo momento e di fare magari l'affare ecco questa è la classica giornata in cui magari andando a curiosare nella rete potreste trovare delle ottime occasioni ma poi questa è una luna che circondandovi di persone positive, disposte anche ad aiutarvi quantomeno ad assecondare quelle che sono le vostre idee, vi permette di creare un ambiente di lavoro collaborativo e troverete collaborazione anche in famiglia e collaborazione nel partner che è la cosa più importante in questo momento in cui c'è sempre qualche tensione di troppo poi ci sono quelli dell'acquario ci sono quelli dell'acquario grazie grazie